Sanità di tutti, una giornata per fare il punto sui risultati della riforma del servizio sanitario varata un anno fa in Toscana. All'evento in programma lo spazio reale di San Donnino sono stati invitati tutti, cittadini, operatori del servizio sanitario, amministratori locali. Sono arrivati in 400 per una giornata di lavoro e di confronto, attorno ai tavoli tematici 21 per 13 temi. Sala piena quindi per la seconda edizione dell'evento Sanità di tutti. La prima infatti si era svolta il 7 novembre 2015, prima dell'approvazione della legge di riforma del servizio sanitario toscano. Servizio sanitario primo a livello nazionale nella Griglialea, i livelli essenziali di assistenza. Proprio ora durante l'attuazione della riforma coinvolgere tutti gli operatori e fargli sentire che sono un pezzo indispensabile del sistema. Noi non possiamo immaginare decisioni prese dall'alto e calate sugli operatori, ma se vogliamo risolvere qualcosa e dare un contributo al sistema bisogna condividere i percorsi. E quindi il senso di questa giornata è proprio questo, provare ad aumentare e ad accrescere la condivisione e anche avere suggerimenti o critiche. L'assessore al diritto alla salute della regione toscana Stefania Saccardi ha aperto la giornata di lavori illustrando alcuni dei progetti realizzati o comunque avviati nel corso del 2016 con la riforma del servizio sanitario toscano, la riorganizzazione del sistema ospedaliero, l'accorpamento delle aziende sanitarie, passate da 12 a 3, una per ciascuna area vasta, azienda USL centro, azienda USL Toscana nord-ovest, azienda USL Toscana sud-est. Secondo me abbiamo fatto importanti passi avanti in questo anno proprio per dare le gambe a una riforma sanitaria che abbiamo approvato nel dicembre del 2015 insieme al Consiglio regionale. Abbiamo cominciato e fatto tanti passi in avanti nella riorganizzazione delle aziende sanitarie, nel miglioramento del coordinamento delle politiche sanitarie sul territorio, dell'uniformità delle modalità con cui si risponde ai bisogni dei cittadini nella nostra regione. Presente la giornata di confronto per stilare un bilancio del primo anno della riforma sanitaria, anche la direttrice generale dell'ASL Toscana nord-ovest, Maria Teresa De Lauretis, Enrico Desideri, direttore generale dell'ASL Toscana sud-est e il direttore sanitario dell'ASL Toscana centro, Emanuele Gori, che dal 1 febbraio ne diventerà il direttore generale. La sfida è stata ridurre la variabilità della risposta nelle varie aziende, cogliere le migliori pratiche che c'erano. Io mi riferisco adesso alla mia, Siena, Rezzo Grosseto, abbiamo rubato le migliori idee e cercato di generalizzarle. Poi abbiamo consolidato l'organizzazione con regolamenti, strutture. Abbiamo reso possibile trasformare una roba in un'unica azienda. Abbiamo riorganizzato la catena di comando della nuova azienda. A questo punto si può dire che dopo un anno di fasi di passaggio l'azienda è decollata. Abbiamo cominciato a lavorare sulla rete dei professionisti. Il futuro è sempre più rete di professionisti. E abbiamo lavorato sull'ospedale portando l'organizzazione dell'intensità di cura in tutti i presidi ospedalieri. Quindi abbiamo riorganizzato anche tutta l'attività ambulatoriale sulla base delle criteri di priorità di accesso creando i fast track e i percorsi specifici per determinate patologie, oltre a quelle del chronic care model. Ma la grande novità di questa riforma è proprio la rilevanza che viene data al territorio. Non abbiamo allontanato i servizi ai cittadini, i servizi sanitari e sociali ai cittadini. Anzi, abbiamo lavorato per assicurare la prossimità delle cure, per assicurare che al cittadino arrivassero più vicine in modo più equo e più efficace le cure, anche migliore qualità. Insomma, questa scelta è stata una scelta strategica. Riorganizzata anche tutta l'attività ambulatoriale sulla base dei criteri di priorità d'accesso con i fast track, percorsi veloci nel pronto soccorso e il miglioramento del coordinamento delle politiche sanitarie sul territorio. La ridefinizione delle zone di stretto sarà l'ultimo passo della profonda riforma della sanità toscana. Abbiamo adesso cominciato il percorso di riorganizzazione del territorio perché è l'altra gamba importante della riforma del servizio sanitario e in modo da far sì che ospedale e territorio dialoghino di più e meglio e che il territorio svolga la sua funzione di presa in carico più vicino possibile ai cittadini delle problematiche più importanti. L'assessore Saccardi nel primo punto della presentazione davanti ai 400 dei tavoli di lavoro ha parlato anche delle misure per ridurre le liste di attesa per le visite specialistiche come la separazione tra le liste per il primo controllo e quelle per i controlli periodici successivi alla prima presa in carico e il follow up. Dobbiamo affrontare il tema delle liste di attesa, dobbiamo completare la riorganizzazione del territorio ancora molte cose sono da mettere in piedi però diciamo che abbiamo cominciato a costruire la sanità in un sistema complesso i problemi non si risolvono in 5 minuti con una bacchetta magica magari lo vorrei anch'io, richiedono studio, richiedono fatica, richiedono un lavoro quotidiano insieme agli operatori e proprio per questo anche quest'anno e lo faremo anche il prossimo anno abbiamo messo in piedi un incontro, ci sono iscritti più di 500 operatori sanitari proprio per sentire i loro suggerimenti, le loro difficoltà e provare a fare meglio. Tra i progetti elencati dall'assessore Saccardi è anche il follow up oncologico che prende in carico i 180.000 pazienti oncologici in Toscana e che garantisce 465.000 visite all'anno e 390.000 prestazioni diagnostiche Tra le novità il modello organizzativo del pronto soccorso che passa dalla gestione delle attese ai percorsi di cura attivati direttamente al triage ad alta media e bassa complessità, un modo per ridurre i disagi causati anche dal sovraffollamento Abbiamo rivisto tutto il discorso del pronto soccorso ora non soltanto nell'ultimo periodo per il problema dell'epidemia influenzale cercando di creare un nuovo modello di organizzazione anche del pronto soccorso e soprattutto attivando percorsi di emergenza nel caso del sovraffollamento del pronto soccorso Tra gli altri progetti messi in atto dalla regione toscana le reti cliniche tempo dipendenti per intervenire tempestivamente per ictus e infarto la rete codice rosa per chi subisce violenza altre azioni messe a punto il consolidamento della partnership con le associazioni di volontariato e la Croce Rossa per questo la regione è la prima volta che ha stabilito in anticipo il budget 93 milioni di euro poi 17 milioni all'elisoccorso allo sviluppo nell'ambito delle maxi emergenze la campagna straordinaria per la prevenzione della meningite C varata nell'aprile 2015 e ancora in corso la campagna per le vaccinazioni pediatriche e la proposta di legge che introduce l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione al nido e alla scuola materna Adesso come prosegue questa riforma? Prosegue cercando di attuare e di mettere in piedi le cose che abbiamo cominciato quindi speriamo il prossimo anno di raccontare un passo avanti sul miglioramento dei rapporti ospedale-territorio sul miglioramento della diagnostica e delle visite specialistiche e speriamo davvero che gli operatori si sentano sempre di più coinvolti in questo percorso Grazie a tutti